Ciao a tutti i diavoletti, oggi salutiamo Elena, ciao Elena! Ciao Elena, un bacione! E lasciate un mi piace in un secondo! Uno, lasciato, bravissimi, siete super bravissimi, Anto, fai un balletto per tutti! Sì, adesso farò un balletto per tutti i diavoletti! Questo è stato magnifico, ti do voto 15! Ok, diavoletti, adesso commentate con un cuore giallo! 3, 2, 1, avete commentato con un cuore giallo! I diavoletti sono super bravissimi, ma diavoletti, oggi non è proprio una bella giornata, ma noi siamo qui davanti a questo scivolo magnifico! Sì, diavoletti, siamo proprio qui e secondo me oggi pioverà, sì, ma noi ci divertiremo tantissimo! Sì, perché qui c'è uno scivolo mega gigante e questo scivolo è magnifico, diavoletti, guardate, è grandissimo, è lunghissimo! Sì, questo scivolo è grandissimo! La, 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 vinci, vieni, vieni! Andiamo! Vinci, guarda, guarda, ci sono dei fogli! Dei fogli? Ma cosa dici? Diavoletti? Oh no, ci siamo avvicinati a questo scivolo? Molto spaventoso! Lì, sembrano esserci dei fogli spaventosi! Vinci, dobbiamo leggere! Cosa? Chi entra in questo scivolo si trasforma in Cartoon Cat? Cosa? Oh no! Sono Cartoon Cat? Non ci posso credere, Cartoon Cat! Diavoletti, aiuto! Vinci, chi entra in questo scivolo si trasforma in Cartoon Cat! Non ci posso credere, questo è così surreale! Poi qui c'è una foto di Cartoon Cat spaventosa! Guardate, diavoletti, questa foto di Cartoon Cat è spaventosa! E poi qui ci sono le impronte di Cartoon Cat, tanto non dirmi che Cartoon Cat si nasconde in questo scivolo! Sì, Cartoon Cat si nasconde in questo scivolo! E noi non dobbiamo mai, mai e poi mai, entrare in questo scivolo! Vinci, dove vai? Oh, Vinci, dove vai? Oh no! Diavoletti, Vinci vuole entrare in questo scivolo! Non può, non può! Vinci, dove vai? Sono qui! Oh, Vinci, dai, vieni! No, 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 Vinci, non deve entrare in questo scivolo! Vinci, non entrare! Non entrare! Vinci! Hanto, che c'è? Io ti dico di non entrare in questo scivolo! Diavoletti, questo scivolo è gigante! È magnifico, perché non dovrei entrarci? Vinci, in questo scivolo si nasconde Cartoon Cat! Ma va, secondo me è una bugia, non si nasconde Cartoon Cat qui dentro, quindi questo scivolo è sicuro! Bla, 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 Cartoon Cat di qua, Cartoon Cat di là, secondo me non è niente vero! Vinci, dobbiamo ascoltare, dai! Avviciniamoci allo scivolo! Diavoletti, si nasconde un gatto qui dentro! Cartoon Cat! Sì, lì dentro c'è Cartoon Cat, abbiamo sentito tutti il suo verso, ma potrebbe essere magnifico incontrare Cartoon Cat, non credi? Vinci, oh no! Oh no, Vinci, Vinci! Tu non devi entrare in questo scivolo! Non entrare in questo scivolo, ho capito? Forse ho capito, Cartoon Cat ci sta richiamando! Vuole incontrarci! Vinci, non entrare, non entrare! Arrivo! No! Eh sì, diavoletti, Cartoon Cat ci sta richiamando, dobbiamo incontrare Cartoon Cat nella vita reale! Che bello, vedremo Cartoon Cat nella vita reale! Dai, io ci vado! Vinci! Io scendo questo scivolo! Vinci, se tu entri in questo scivolo ti trasformi in Cartoon Cat! Oh no, Vinci, diavoletti, Vinci, era in questo scivolo, ma adesso non c'è più! Oh no, Vinci, Vinci! Questo verso è molto strano! Oh no, secondo me adesso Vinci è Cartoon Cat! Aiuto, aiuto! Oh no, diavoletti, dobbiamo scappare! Aiuto! Vinci! Oh no, Vinci, dai, esci dallo scivolo! Perché non esce nessuno? Vinci! Oh no, questo scivolo pauroso ha rapito Vinci! Lo scivolo pauroso ha proprio rapito Vinci! E adesso Vinci è Cartoon Cat! Oh no, non avvicinarti! Oh no, è un jump scare! Diavoletti, dobbiamo scappare! Diavoletti, Cartoon Cat è qui! Sì, ma è Vinci! Oh no, Vinci Cartoon Cat si nasconde in questa zona e vuole attaccarmi! Noi dobbiamo salvare Vinci! Non doveva entrare in questo scivolo! No! Oh no, no! Guardate, lì c'è Vinci Cartoon Cat! Dai Vinci Cartoon Cat! Non avvicinarti! Non avvicinarti! Miau! Aiuto! Ok, devo nascondermi! Oh no, mi ha trovato! Mi ha trovato! Stavo per cadere! Stavo per cadere! Aiuto! Dove devo nascondermi? Vinci Cartoon Cat mi sta seguendo! E vuole mordermi! Oh no, guardate! Adesso sta camminando proprio lì! Vinci Cartoon Cat! Non mi ha visto! Ok, dobbiamo fare molta attenzione! Molta, molta attenzione! Ok, adesso dobbiamo tornare a casa e dobbiamo trovare un metodo! Sì, una soluzione per salvare Vinci! Vinci deve tornare un essere umano! Oh? Cosa? Oh no! Mi ha sentito! Oh no, guardate! Si sta avvicinando! Si sta avvicinando! Devo trovare un metodo per fermare Cartoon Cat! Ok, qui ho una pietra! Adesso lanciamo questa pietra e secondo me Cartoon Cat si fermerà un po'! 3, 2, 1... Ok, Cartoon Cat! È caduto! Cartoon Cat è caduto! Ok, adesso possiamo tornare a casa! Devo trovare un metodo per salvare Vinci! Sì, Vinci Cartoon Cat! Deve tornare un essere umano! Qualcuno mi aiuti! Qualcuno mi aiuti! C'è un allarme! Sì, c'è un allarme! Attenzione! Avviso per tutte le persone! Non avvicinatevi al gatto spaventoso! Cosa? Nessuno deve avvicinarsi? Al gatto spaventoso? Oh no! Tutte le persone hanno avvistato Cartoon Cat Vinci! E adesso stanno urlando! Sentite? Tutte le persone stanno urlando! Ok! Dobbiamo subito tornare a casa! Vinci Cartoon Cat! Sta spaventando tutti! Sono appena tornato a casa! Sì, sono tornato a casa! Che bello! Ma Vinci è ancora Cartoon Cat! E guardate! Qui ci sono le nostre decorazioni di Halloween! Sì, guardate! Ci sono tantissime zucche! Ok! Ma Vinci? Sì, Vinci è ancora Cartoon Cat! Quindi adesso dobbiamo entrare dentro casa! Dobbiamo trovare un metodo per salvare Vinci! Cosa? Chi ha messo il computer qui? Questo computer non era qui! Cartoon Cat? È stato Cartoon Cat! Che ansia! Che ansia! Sta succedendo qualcosa di molto brutto! Vinci è proprio Cartoon Cat! Se vuoi salvare Vinci Cartoon Cat, devi fare quattro sfide! Ok! Lo faccio! Farò quattro sfide per Vinci Cartoon Cat! Diavoletti! Che ansia! Secondo voi Vinci Cartoon Cat? Mi sta seguendo? Oh no! Ho molta paura! Moltissima! Oh no! Vinci adesso è Cartoon Cat Spider! Cartoon Cat Ragno! Oh no! Aiuto! È gigante! È Cartoon Cat Ragno! Dobbiamo scappare! Sì! Dobbiamo subito scappare! La situazione è sempre più pericolosa! Oh no! Ci sta attaccando! No! Dobbiamo scappare! Ok! Qual è la prima sfida? Diavoletti! Cartoon Cat Vinci! Si sta evolvendo! Sbrigati Anto! Guardate quest'occhio! È molto spaventoso! È spaventoso! Ok! Diavoletti! Cartoon Cat Vinci! Mi sta spiando! E io devo salvare Vinci! Qual è la prima sfida? La prima sfida è riuscire a trovare la maglia di Cartoon Cat ed indossarla! Devo trovare la maglia di Cartoon Cat! Lo devo fare adesso! Maglia di Cartoon Cat! Dove sei? Che ansia! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Ok! Dov'è la maglia di Cartoon Cat? Maglia di Cartoon Cat! Sei nel microonde? Ok! Controllate! Vedete qualcosa nel microonde? Niente! Oh no! Dobbiamo controllare nel forno! 3, 2, 1... Nel forno vedo qualcosa! Diavoletti! C'è la maglia di Cartoon Cat! Dobbiamo subito indossarla! Indossiamo la maglia di Cartoon Cat! Dai, dai! Ok, diavoletti! Ho trovato la maglia di Cartoon Cat! Guardate! È proprio la maglia di Cartoon Cat! Dobbiamo indossarla? Sì! Perché dobbiamo completare la prima sfida per salvare Vinci! Dai! Indossiamo la maglia! Wow! Guardate! È la maglia di Cartoon Cat! Sì! Ho completato la prima sfida! Sì! Abbiamo completato! Sì! Abbiamo completato la prima sfida! Sì! Guardate, diavoletti! Questa maglia è di Cartoon Cat! Non posso crederci! Vi piace? Sì che vi piace! Perché c'è... Cartoon Cat! Wow! 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 Ok, ma adesso devo salvare Vinci! Sì! Perché è Cartoon Cat! Dovete farmi compagnia perché qui ho molta paura! Sono da solo! Vinci è Cartoon Cat! E guardate! Sì! Noi abbiamo anche decorato tutta la casa! Sì! Qui c'è una zucca di Halloween! Vi piace questa zucca? È super bellissima! Ma... Vinci! Sei Cartoon Cat! Io devo salvarti! Devo correre! Devo correre! Dai, dai! Ok! La seconda sfida è trovare la scatola segreta di Cartoon Cat! La scatola segreta di... Cartoon Cat! E dov'è questa scatola? Oh no! Aiuto! Ho visto qualcosa! Nel lavandino! Ho visto qualcosa nel lavandino! È una scatola segreta di Cartoon Cat! Ok! Dobbiamo prendere questa scatola! È una scatola segreta! Diavoletti! Sì! Abbiamo trovato una scatola segreta di Cartoon Cat! Guardate! È proprio una scatola! Sì! È una scatola! E chissà cosa c'è dentro? Io adesso l'ho trovata! E dobbiamo aprire la scatola segreta di Cartoon Cat! Se vogliamo salvare, vinci! E se vinci Cartoon Cat entrasse in casa? Aiuto! Potrebbe entrare in casa! Dobbiamo sbrigarci! Dai! Dobbiamo aprire la scatola segreta di... Cartoon Cat! Secondo voi cosa c'è dentro? Dai! Dobbiamo trovare un'apertura! Un'apertura! Oh! Ecco! Dai! Dai! Sto aprendo la scatola! Sì! Sto aprendo la scatola di Cartoon Cat! Cosa? Ho aperto la scatola! Ma cosa c'è dentro la scatola segreta di Cartoon Cat? Guardate! Qui c'è una foto spaventosa! Ok! Cosa? Qui c'è una zucca di Halloween molto spaventosa! Sì! È una zucca di Halloween! Non voglio neanche toccarla! Non voglio toccare quella zucca! E qui c'è... Un dolce! Sì! Un dolce di Halloween! Dobbiamo provarlo! Sì! Dobbiamo provarlo! Dobbiamo provarlo! Ok! Speriamo che non sia disgustoso! È uscito dalla scatola segreta di Cartoon Cat! Ha! Diavoletti! Ha un sapore disgustoso! Questo è un dolce segreto di... Halloween! Cosa? C'è qualcosa qui! Cosa c'è qui? Diavoletti! Dobbiamo scoprire! Sì! Dobbiamo scoprire cosa si nasconde... Nella scatola segreta di Cartoon Cat! Ok! Dai! Apriamo! Vediamo che ansia! Cosa? Ma che cos'è? Diavoletti! Cosa? Cosa è uscito? Cosa? È Frankenstein! Sì! È un mostro di Halloween! Guardate! Ok! Ma che cos'è? Un giocattolo? Un giocattolo proibito? Eh... Sì! È un giocattolo proibito! Guardate! Perché questo giocattolo si allunga! Ah! 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 Ok! Sì! È un giocattolo proibito! Eh! Guardate! Oh! Ok! Questo giocattolo? Noi non dobbiamo usarlo! Ciao! 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 Ok! Ok! Abbiamo aperto la scatola segreta di... Cartoon Cat! Ho completato la seconda sfida! Sì! Cosa? No! No! Aiuto! Oh no! Cartoon Cat Ragno! È dentro casa! Aiuto! Oh no! È dentro casa! Aiuto! Devo completare tutte le sfide! Aiuto! Diavoletti che ansia! Sì! Cartoon Cat Ragno è entrato dentro casa! Oh no! Oh! Cosa? La terza sfida è trovare il cuscino di Cartoon Cat! Il cuscino? Ok! Ok! Dov'è il cuscino di Cartoon Cat? Cuscino di Cartoon Cat? Cosa? Diavoletti! C'è qualcosa che mi sta spiando! Oh! Guardate! C'è qualcosa che mi sta spiando! Che cos'è? Dobbiamo... L'abbiamo preso! È un cuscino! Sì! È un cuscino di Cartoon Cat! Evviva! Sì! Ehi ehi ehi! Ah ah ah! Sì! Abbiamo trovato il cuscino di Cartoon Cat! Ma aspettate! Da dove sono uscite tutte queste cose rarissime? Sì! Sì! Questo è un cuscino di Cartoon Cat? E' proprio un cuscino! Ok! E qui c'è la faccia di Cartoon Cat! Ciao Cartoon Cat! Ok! Questo cuscino io non lo userò mai! È molto spaventoso! Abbiamo completato la terza sfida! Sì! Adesso manca l'ultima sfida! Sì! Noi dobbiamo far tornare! Aaaaaaah! Vinci Cartoon Cat! Ragno! Un essere umano! Aiuto! Oh oh! Dobbiamo nasconderci! Vai via! Che ansia! Che ansia! Che ansia! Che ansia! Dai! Qual è l'ultima sfida? Dimmi qual è l'ultima sfida? Dai dai! Qual è l'ultima sfida? Qual è l'ultima sfida? Mi manca moltissimo Vinci! Sì! Mi manca molto! Oh! Aaaaaaah! Oh! Cosa? La quarta sfida è bere dalla tazza di Cartoon Cat! Guarda dietro di te! Devo bere dalla tazza di Cartoon Cat! E devo guardare! Dietro di me c'è la tazza di Cartoon Cat! Guardate diavoletti! Questa è proprio la tazza! Sì! Una tazza! Oh no! Qui c'è un liquido molto strano! Ed è rosso! Sì! È rosso! E io devo bere dalla tazza di Cartoon Cat! Guardate! È proprio una tazza! E devo bere! Che ansia! Che ansia! Ok! Qui abbiamo la tazza di Cartoon Cat! Guardate! Ho acceso le telecamere! E Cartoon Cat Ragno sta camminando nel nostro giardino! A me manca l'ultima sfida! Quindi adesso devo fare l'ultima sfida! Per far tornare Vinci un essere umano! Guardate! Sta camminando nel nostro giardino! Oh no! Potrebbe essere molto pericoloso! Quindi adesso andiamo! Guardate! È proprio la sua tazza! E adesso dobbiamo bere! Diavoletti! Ho bevuto! È... È... È disgustoso! Ma ho bevuto tutto! Sì! Ho proprio bevuto tutto! Ho completato l'ultima sfida! Sì! Ho completato l'ultima sfida! E vai! Ahahah! Ahahah! Adesso Vinci! Tornerà un essere umano! Vinci! Dove sei? Vinci! Io mi sono impegnato molto per te! Vinci! Dove sei? Ho anche indossato una maglietta di Cartoon Cat! Sì! Vinci! 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 Vincere! Canto... Sei tu! Cos'è successo? Ero Cartoon Cat! Vinci! Sei tu! Finalmente! Sono io! Guardate! Sì! Sei tu! Ahahah! 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 Grazie a tutti